E' salita la ribalta nazionale l'ordinanza del sindaco di Pescara Carlo Masci sull'orario di chiusura di ristoranti, bar e locali. Il primo cittadino assicura che dal 7 luglio gli orari saranno modificati. Oggi la firma del provvedimento da parte del sindaco all'indomani dell'incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria e dopo l'approvazione in consiglio comunale della misura inserita nell'ordine del giorno presentato dalla maggioranza. L'ordinanza è che nei giorni feriali si possa stare nel centro storico e nel centro della città dove la movida è più sviluppata fino alle mezzanotte e mezza e il venerdì e il sabato fino alle 1 e mezza. Poi daremo un quarto d'ora di tempo ai locali per sgombrare i tavoli che oramai sono praticamente tutti all'esterno perché noi abbiamo permesso l'occupazione del suolo pubblico a tutti proprio per favorire le attività che hanno avuto problemi, sono state chiuse nel periodo del Covid. Adesso ripartiamo ma dobbiamo ripartire con giudizio e con equilibrio perché divertirsi non vuol dire il far west in città, vuol dire divertirsi dentro degli orari, dentro delle regole e a una certa ora dare la possibilità a chi vuole dormire di poter dormire. Nelle altre zone della città nei giorni feriali abbiamo stabilito l'una, venerdì e sabato le 2. Discorso a parte per le attività artigianali come gelaterie, pizzerie al taglio e cornetterie che potranno restare aperte ma non è consentito ai clienti il consumo sul posto. Con la Bagnera Blu avremo tantissimi turisti quindi accogliamoli bene e non con questi messaggi forvianti Pescara in coprifuoco perché non esiste. Pescara è la città che da circa due mesi ha l'indice di contagi più basso d'Italia. Con la Bruzzo in zona bianca lo stop a coprifuoco, operatori e associazioni di categoria avevano chiesto di non prevedere limitazioni nei confronti delle attività già fortemente in crisi economica a causa dell'emergenza da Covid-19, evidenzia Gianni Tauci, direttore della Confesercenti di Pescara. Ci aspettavamo un atto di responsabilità perché dopo mesi famiglie di lavoratori, famiglie di imprenditori devono ricominciare la loro attività. Sicuramente nessuno vuole degli orari che sconvolgano la città ma dobbiamo essere messi in condizioni di poter far operare quelle imprese. In questa scelta che noi non abbiamo accettato, abbiamo preso come l'ennesimo atto di responsabilità sulle spalle delle imprese, abbiamo però chiesto al Sindaco che dal 7 di luglio tutto torni alla normalità perché questo deve essere il punto di partenza. Se questa condizione deve essere propedeutica ad una ripartenza più leggera per arrivare ad un'estate di normalità, abbiamo ingoiato un rospo amaro in questo momento, però abbiamo chiesto alle imprese di farsi carico di un'ulteriore responsabilità che sinceramente non ci saremo aspettati di dover affrontare.